Il PTA di Bitonto si arricchirà presto di un nuovo strumento, i tamponi rapidi per screening. Ad annunciarlo è stato il dottor Felice Spaccavento intervenuto nella nostra città a un incontro della festa dell'unità. Questi nuovi test permettono di riconoscere in 15 minuti la presenza dell'antigene nel paziente e hanno elevate performance di sensibilità e specificità. In caso di positività sarà necessario effettuare a seguire il tampone molecolare. Secondo il medico Molfettese il nostro ex ospedale sarà uno dei pochi PTA della provincia di Bari ad avere questo servizio. Intanto la giunta regionale pugliese ha aperto anche a chi non fosse segnalato dall'ASL per contatti con positivi o sintomi la possibilità di fare un tampone a pagamento nei laboratori privati accreditati. Solo due i centri nella nostra provincia indicati nella lista fornita da Michele Migliano. Attualmente la tariffa massima applicabile è di 80 euro ma in regione già si lavora per cercare di abbassarla.